Progetto Esseri Umani, obiettivo porre in atto una riflessione in ambito territoriale sul quinto convegno ecclesiale nazionale tenutosi a Firenze a novembre, che visto la partecipazione di oltre 2000 delegati provenienti da tutte le diocesi della Chiesa italiana sul tema In Gesù Cristo, il nuovo umanesimo. A bretta presso il monastero di San Ruggero una tavola rotonda, 5 esperienze del territorio per 5 vie, uscire, annunziare, abitare, educare e trasfigurare. Per noi uscire è andare incontro alle necessità, incontrare tutti quei fratelli che non hanno il coraggio di chiedere aiuto o una mano. Per noi uscire fuori dalle proprie comodità e dalle proprie certezze, per davvero condividere quelle che potrebbero essere le cruci pesanti portate da alcuni fratelli. A me sembra che l'annuncio preveda la costruzione di rapporti nuovi con chi ci sta accanto e i passi sono impegnativi ma anche semplici. Significa amare tutti, amare per primi, amare per credenti e amare come Gesù ci ha amato, condividere le gioie e i dolori degli altri. Su questa vita vissuta ci è garante Igino Giordani che parla di santità in tuta da operaio. Quindi far trasfigurare queste azioni che normalmente compiamo quando andiamo a lavoro, quando siamo in famiglia, quando siamo per strada, farle diventare, lui dice, una celebrazione di una messa. Abitare di fatto è un verbo dinamico, non è un verbo statico, rappresenta la necessità di educare e quindi di aprirsi agli altri, di mettersi al servizio degli altri. Il dare è sicuramente l'altra faccia della medaglia del verbo abitare. In Caritas siamo vicini agli ultimi, siamo vicini ai bisognosi e questa è come dire una regola, è il nostro servizio, quindi mettere il grembio di servizio al servizio degli altri è la nostra regola principale.